Olnes-Uboa, alle porte di Parigi, è presidiata dalle forze di polizia dopo gli scontri di lunedì. 24 persone sono state fermate nelle stesse ore in cui 4 agenti di polizia sono stati incriminati e sospesi dopo la diffusione del video e l'arresto di un giovane nella periferia nord della capitale. Uno dei poliziotti è accusato di stupro e altri 3 di violenze di gruppo. Teo, 22 anni, è arrivato al commissariato con il volto tumefatto e importanti lesioni che corrispondono chiaramente all'introduzione di un manganello nel retto, conferma il referto medico. Ad Alnù sono in programma nuove manifestazioni pacifiche. Ma nel weekend si sono registrate diverse auto date alle fiamme, un tentativo di dare fuoco a un autobus e un blackout dopo il sabotaggio della rete elettrica.